buonasera a tutti aspettiamo che si colleghi qualcuno intanto ascoltiamo ennio moricone sperando che facebook non metta il blocco perché insomma ovviamente sono diritti d'autore e non si potrebbe eccoci qua collegatevi come rituale metto i miei fantastici ipods buonasera a tutti sono alessandro difonso per chi non mi conoscesse sono il primo ed unico agri coach in italia esperto in marketing per giardinieri perché sono esperto in marketing per giardinieri perché per dieci anni della mia vita ho fatto il giardiniere partendo dal bassissimo livello fino arrivare a fare giardini in tutta italia per un valore addirittura di 247 mila euro per singolo lavoro li ho fatti anche sui tetti e non ve li sconsiglio vi sconsiglio di fare sui tetti che veramente un casino e in più simultaneamente contemporaneamente anche un po dopo ho implementato le conoscenze di marketing studiando con i migliori formatori italiani e anche stranieri e sono andato appositamente all'estero in particolare a londra dove ho fatto ciao lino vallone dove ho fatto diversi corsi sia di marketing che di garden design per unire queste due competenze quindi l'esperienza nel giardinaggio e quella nel marketing per portare in italia un prodotto assolutamente unico e che sarà la salvezza di tanti giardinieri buonasera a tutti quanti oggi il tema il tema della giornata perché oggi il tema della giornata è questo è quello appunto del lancio del del primo videocorso e unico videocorso in tutta Europa perché non ce ne sono altri videocorso di marketing tagliato apposta appositamente per giardinieri che avverrà nel mese di giugno dobbiamo ancora decidere le date perché gli impegni sono assolutamente tanti e quindi dobbiamo un attimo calibrare la questione anche insieme c'è una serie di fattori che dobbiamo prendere in considerazione che stiamo valutando per trovare il momento migliore e più opportuno comunque questa è la notizia della giornata quindi chi è interessato a guadagnare di più nel settore del giardinaggio o nei settori correlati assolutamente deve segnarselo sull'agenda e iniziare a risparmiare dei soldini che poi saranno utili per acquistare il corso che sarà presentato in tre versioni ma non dirò questo non parlerò di questo in questa diretta di oggi avvicino un po la camera e mi metto più comodo facciamo anche un sorso d'acqua oggi sono tutti al lavoro di al mare vi do accorso assolutamente unico in europa in italia sicuramente ma anche in europa ovviamente non è unico negli states perché negli states insomma come spesso chi segue i contenuti della ricorce sa che il marketing praticamente la patria del marketing è sicuramente gli states gli stati uniti è lì che praticamente tutte le novità in merito a questa disciplina sono concepite implementate e sfruttate anche dal negozietto che si trova nel vicolo del quartiere più periferico e sconosciuto mentre qui in italia nemmeno le grandi aziende lo conoscono o a malapena fanno pubblicità quindi ci sarà un motivo per cui tutte le più grandi aziende del mondo le più grandi catene di ristorazione sono assolutamente americane perché ovviamente sanno usare il marketing ciao vita toio lizio e quindi oggi sono un po sconclusionato scusatemi ora mi riprendo e inizio a carburare e quindi c'è un motivo per cui le le più grandi aziende le più importanti quelle che fattono di più quelli che hanno più punti vendita e quelle che si ampliano di più quelle che arrivano a più persone sono americane e ovviamente anche il settore del giardinaggio è tenuto in molta considerazione negli stati uniti e infatti cioè poi basta non c'è nella vita da inventarsi tanto che basta andare a vedere cosa succede in altri paesi che sono diciamo che non sono l'italia l'italia è assolutamente unica e preziosa e avanti per tante cose ad esempio per il cibo per la moda ma è assolutamente indietro come la coda del porco utilizzo senso un agricoce quindi utilizzo termini agricoli anche in questo è assolutamente indietro come la coda del porco riguardo tante cose riguardo il business e soprattutto riguardo il marketing e negli stati uniti quindi le aziende di giardinaggio sono aziende che mediamente hanno fatturati molto ma molto più elevati di quelli che ci sono che avvengono insomma che sono fatti in Italia anche perché hanno una concezione del business totalmente diversa rispetto alla nostra esempio in Italia no che succede tutti pensano in piccolo mediamente aprire un business aprire una partita IVA per fare il meccanico un bar un ristorante che finalità fondamentalmente ha la finalità non quella di fare successo e arrivare alle stelle la finalità è quella di trovarsi un lavoro quindi creare un'azienda in cui praticamente noi siamo dipendenti di noi stessi che alla fine si traduce soprattutto in schiavi di noi stessi quindi non è infatti poi c'è una concezione dell'imprenditoria abbastanza sballata no si pensa che l'imprenditore questo è un retaggio culturale che viene forse dalla post rivoluzione industriale si pensa che l'imprenditore no sia quello che fa soldi a fiumi sia quello spregiudicato quello che tratta male i dipendenti mentre mediamente nell'azienda italiana i dipendenti stanno meglio dell'imprenditore cioè l'imprenditore quello che soffre come un cane deve lavorare 24 ore al giorno e in tanti casi magari non riesce nemmeno a portare a casa lo stipendio come il dipendente che mediamente addirittura guadagna di più dello stesso imprenditore questo perché uno perché non viene non sono conosciute le tecniche di marketing ok e per cui si cerca di arrivare al successo di far crescere di più l'azienda c'è una totale ignoranza in merito a quelli che a quelli che sono i modelli di business ma non è il tema di questa diretta lo tratteremo in un altro contesto quindi il modello di business in questo caso parliamo del modello di business del giardinaggio quindi che crea valore in un certo modo ma ripeto non è questo il momento di parlare di modelli di business quindi negli Stati Uniti quindi anche il settore del giardinaggio approfitta della disciplina del marketing e ha aziende che fatturano tantissimo e addirittura esistono anche dei franchising appunto di giardinaggio quindi c'è della gente che sa fare il giardiniere mette appunto delle tecniche speciali si specializza nel fare le siepi si specializza nel tagliare i prati si specializza nel raccogliere le foglie quindi ottimizza tutti i processi individua appunto un sottomodello di business quindi un modello di business specifico per quello per cui lui è diventato specialista diciamo raccoglie tutti i parametri tutti gli accorgimenti crea appunto un nuovo modello crea un manuale è una volta che vede che questo modello di business da un certo tipo di reddito che cosa fa decide di esportarlo e di replicarlo e quindi fa pubblicità fa marketing e dice guardate signori io ho creato un nuovo modello di business per il giardinaggio si chiama il raccogli foglie a crea appunto un logo un brand di riferimento le magliette fornisce la pubblicità a i francesi che sono coloro che acquistano il franchising e praticamente riesce a guadagnare non solo per la sua attività da cui parte il modello di business che poi viene replicato ciao nicola ivano anselmi ma riesce a guadagnare appunto anche sullo sfruttamento del marchio da parte di altri giardinieri in tutti gli stati uniti quindi magari ci saranno 3 4 5 10 20 aziende di giardinaggio tutte sotto lo stesso brand che sfrutteranno il modello di business messo a punto dall'imprenditore quindi affinato fino alla maniacalità quindi in modo da essere diciamo un business a modello di a prova di bomba e che quindi se ha funzionato alla base funzionerà molto probabilmente più o meno perché poi non è detto che tutti i punti in franchise si badano bene allo stesso modo quindi ci sarà uno che andrà meglio uno che andrà peggio ma saranno più o meno tutti profittevoli e dal profitto che ne deriverà l'imprenditore principale che ha creato il franchising trarrà un guadagno quindi avrà quelle che sono definite in gergo tecnico le royalties che sono insomma determinate da una piccola percentuale che sono sia il compenso per l'imprenditore che ha creato il franchising e anche vanno a contribuire al marketing e alla pubblicità nazionale perché altrimenti senza marketing tutto questo non sarebbe mai nato quindi torno al discorso di prima che l'impresa in Italia l'azienda l'imprenditore vede sempre le cose in piccolo cioè mediamente poi lo dico tutti perché sono anche grandissimi imprenditori illuminati e geniali in Italia assolutamente questo non si può negare sarebbe un folle se dicesse una cosa del genere però mediamente in Italia si apre la partita IVA si fa l'azienda per essere dipendenti di noi stessi e soffrire chi più chi meno in silenzio e non si pensa a come far crescere il proprio business in modo da avere più successo e togliersi anche delle soddisfazioni che possono essere di vario tipo dal guadagnare più soldi, di avere un marchio affermato, da cambiare un po' la propria vita lavorativa quindi da passare da chi fa le cose manualmente, fa il lavoro sporco tutti i giorni magari a diventare un manager in grado di gestire team di sviluppo che poi prendono lavori in tutta la provincia, in tutta la regione e magari in tutta la nazione per chi è più bravo anche per chi ha l'ambizione di arrivare in tutta la nazione perché poi non tutti possono avere l'ambizione di crescere come è giusto che sia come non tutti devono pensare di fare un franchisee, non tutti devono pensare di fare più soldi col giardinaggio, magari è anche comprensibile, c'è chi dice voglio fare il giardiniere da solo solo la mattina, poi il pomeriggio voglio andare al mare e quindi questo ovviamente sono scelte di vita ma siamo qui per parlare, ciao Pierluca Simone siamo qui per parlare di altri temi, quindi chi ascolta in questo momento questa diretta chi la ascolterà in futuro, chi la ascolterà, chi la vedrà sul canale YouTube ovviamente è interessato a cambiare la propria vita in meglio e ad apprendere le leve di marketing che assolutamente gli permetteranno di sbaragliare la concorrenza nel settore del giardinaggio in Italia perché? Perché fondamentalmente, ciao Gianni Antonelli in Italia nel settore del giardinaggio nessuno fa pubblicità, nessuno fa marketing quindi è come essere l'unico squalo in un oceano pieno di pescettini piccolini e passare dall'oceano rosso sangue nel quale si trovano i giardinieri indifferenziati che essendo assolutamente tutti uguali e indistinguibili gli uni agli altri si giocano l'accaparramento, quindi il fatto di prendere un lavoro o meno sulla battaglia del prezzo, quindi abbassando a ripetizione fino all'insostenibilità le loro tariffe e quindi i margini che poi gli permettono di sopravvivere o di vivere bene o di vivere ancora meglio tutte queste tematiche assolutamente saranno trattate nel videocorso dell'Adicoach che vi ricordo uscirà i primi giorni di giugno ciao Andrea Antonelli ed è uno dei momenti migliori questo progetto l'avevo in serbo già da un paio d'anni ed è assolutamente uno dei momenti migliori per tirarlo fuori ciao Pio Miki perché? perché non voglio fare terrorismo psicologico ma il futuro che ci aspetta non è assolutamente rosio inizierà una crisi terribile che molto probabilmente sarà peggiore addirittura di quella del 2008 e quindi sempre meno persone avranno una disponibilità economica per pagare il giardiniere quindi assolutamente bisognerà orientarsi a un target più elevato alto spendente di persone che molto probabilmente avranno e continueranno ad avere hanno e continueranno ad avere denaro e si andrà incontro a diversi problemi per i giardinieri che comunque sono abituati a lavorare low ticket quindi a basso prezzo in manutenzioni sottopagate e spesso anche per condominio e roba varia dove già non si riescono a spuntare ottimi prezzi poi sicuramente con la crisi i condomini inizieranno a non pagare le rate condominali e molto probabilmente si tarderà anche nell'avere i pagamenti riguardo alle manutenzioni così come tante aziende diminueranno la manutenzione invece di fare nel prato aziendale 20 tagli all'anno passeranno a 10 invece di tagliare la siepe due volte all'anno la faranno una magari avranno una riduzione del lavoro e quindi compreranno dei tosasiepi e metteranno degli operai che magari hanno meno da fare perché il lavoro è meno a tagliare il grosso e poi chiameranno il giardiniere per la rifinitura ecco ci saranno tutta una serie di problematiche che l'agricorcio avendo esperienza decennale in questo settore dal 2004 al 2014 quindi ha vissuto in pieno durante la crisi del 2008-2012 infatti stavo organizzando farò a metà maggio un webinar che sarà diciamo è una lezione in un'aula virtuale che si terrà online quindi alla quale potrete assistere comodamente da casa vostra in cui si parlerà appunto di come affrontare la crisi che verrà vi darò dei consigli che saranno fondamentali assolutamente per la vostra attività di giardinaggio per affrontare quello che arriverà il consiglio che già vi sto dando è quello di studiare il marketing perché solo in questo modo voi riuscirete a essere differenti dagli altri giardinieri quindi ad essere più meritevoli di essere chiamati rispetto agli altri e a essere in grado di spuntare delle cifre maggiori rispetto alla maggioranza dei giardinieri tutti uguali e tutti indifferenziati quindi il video corso il primo video corso di marketing per giardinieri d'Europa ripeto d'Europa perché negli Stati Uniti già esiste ovviamente quindi per portare innovazione non è che bisogna essere dei geni basta vedere quello che succede al di là del nostro naso ora io ho anche il naso lungo quindi devo avere una vista piuttosto lunga quindi ho una vista lunga perché devo superare il mio naso che è un po' lungo e quindi quello che faccio anche un po' per passione è studiare tutte le novità e modelli di business che ci sono anche relativamente alle attività più disparate nel mondo perché sicuramente possono essere d'esempio e possono essere importabili anche in Italia ora non è detto che tutto quello che funziona all'estero importato tal quale in Italia possa funzionare perché ovviamente poi ogni popolazione ha le sue caratteristiche però con le adeguate sistemazioni, con le adeguate contestualizzazioni al mercato italiano ci possono essere tantissime idee che noi di cui noi non sappiamo nemmeno niente di cui non abbiamo conoscenza che possono essere prese all'estero e importate in Italia e il marketing per giardinire assolutamente è una di queste che presa e vista all'estero grazie alla mia esperienza nel giardinaggio, grazie alla mia esperienza nel marketing ho importato in Italia per lanciare questo servizio, questo progetto, questo prodotto che sarà assolutamente unico non solo in Italia ma anche in Europa perché ho scelto proprio giugno? perché giugno è il momento, diciamo, è un momento ottimale per i giardinieri ovviamente non hanno molto tempo per studiare delle informazioni ma nel poco tempo libero che avranno durante la pausa estiva se quest'anno ci sarà perché magari non ci saranno nemmeno le ferie comunque ci sarà una fase di circa sei mesi di ambientamento e di metabolizzazione in un mondo in cui mediamente un giardiniere, il giardiniere medio, senza offesa per nessuno non aveva mai sentito parlare, quindi c'è ovviamente c'è un impatto molto forte relativamente a queste nuove conoscenze che sto diffondendo da un mese a questa parte e quindi è necessario entrarci piano piano mettendoci un piedino dopo l'altro è necessario iniziare a metabolizzare, a studiare il videocorso che sarà poi, diciamo, potrà essere messo in atto quindi ovviamente non è che è necessario solo guardarlo, ok? questa è un'altra cosa cioè non è che poi uno lo guarda e lo studia, lo rivede due volte e è a posto poi ovviamente per avere successo, per guadagnare di più deve mettere in pratica quello che sarà indicato nel videocorso e assolutamente quindi quando poi si calmeranno le acque in autunno quando ovviamente magari si accorciano le giornate è difficile che, almeno che non ci sia una stretta urgenza magari il matrimonio della figlia del commendatore non si va a lavorare in giardino di notte quindi con il ritorno alle giornate brevi i giardinieri che avranno già messo i piedi e avranno iniziato a metabolizzare il marketing tagliato appositamente per la loro attività potranno iniziare a mettere in pratica e implementare tutte quelle pratiche che nel 2021 per chi le studia, per chi le applica bene potranno portare diciamo è difficile dare una garanzia ma ho fatto una stima tranquillamente, studiando il corso che uscirà e implementandolo voi potrete tranquillissimamente a meno che non siate un'azienda che già fattura tantissimo raddoppiare il vostro fatturato ma proprio ad occhi chiusi lo dico e se fossimo in un altro settore non lo direi con tanta sicurezza perché negli altri settori magari c'è un minimo di competizione se io parlassi di marketing per ristoranti un minimo di marketing ristoranti un minimo di pubblicità per sbaglio qualche sponsorizzata su Facebook su Facebook la fanno poi magari sono esposti sono posizionati in zone dove passano tante persone e quindi ce ne sono tantissimi vi direi assolutamente una cosa non vera però sinceramente molto sinceramente posso affermare con sicurezza chi studierà il corso dell'agricoce lo applicherà dal primo all'ultimo passo potrà facilmente raddoppiare il fatturato nell'anno 2021 quindi questo processo di evoluzione si svilupperà scusate faccio un sorso si svilupperà nel giro di di un anno di un anno e mezzo partiamo con l'estate tranquillamente entriamo ci iniziamo a focalizzare sulla questione iniziamo a metabolizzare le informazioni cosa che tanti di voi già stanno facendo sul canale YouTube sul canale Telegram e via dicendo abbiamo già mille giardinieri iscritti e interessati al corso mille che quindi in un mese lo dico anche per chi magari potrebbe prendere sotto gamba questa cosa in un mese mille giardinieri si sono iscritti alla lista dell'agricoce perché sono interessati al corso ok? mille quindi potrebbe essere anche un problema per chi non lo implementerà perché se poi avete la mala sorte di avere nella vostra zona uno o due o tre giardiniere evoluti il vostro mercato già ridotto all'osso a causa della crisi che arriverà potrebbe diventare veramente molto molto esiguo quasi da tornare a casa quindi il mio consiglio è insomma di perlomeno andare a valutare non escludere a priori questa cosa perché potrebbe diventare fatale per i vostri guadagni e per la vostra attività di giardinaggio quindi mille persone sono già interessate 993 una cosa del genere abbiamo più o meno una crescita di 40-50 persone al giorno che entrano quotidianamente nelle nostre liste che quindi seguono tutte le mail si informano vanno a vedere i video su YouTube su canale Telegram e via dicendo e che quindi ora in realtà io sconosco benissimo la percentuale di conversione dei lead appunto delle liste che si formano nelle mailing list le conosco perfettamente ovviamente ovviamente non ve le dico ma per scoprirle dovete acquistare il commercio scusatemi il corso perché come vi ho già spiegato e però non finirò mai non mi stancherò mai di ripetere funziona così voi fate raccontate qual è il vostro prodotto servizio fate scrivere quindi raccogliete i lead i contatti delle persone e poi con un processo di conversione le trasformate in clienti ogni tot persone che entrano tante pochi diventano clienti ma questo numero diventa una conseguenza matematica statistica matematica cioè ogni 100 tot diventano clienti quindi succede che alla fine una volta che avete messo in moto e rodato la vostra macchina di marketing avrete a disposizione una macchina che stampa soldi quindi più soldi metterete nel marketing e più soldi tirete fuori dall'altro lato dai vostri clienti poi sarà vostra scelta se limitare i clienti o se iniziare assumere persone e ingrandire il vostro business cosa che magari in questo momento io sconsiglierei più che altro consiglierei delle alleanze tra giardinieri e voluti ma di questo parleremo perché l'Adi Coach sta anche studiando ciao Lucia Sabellico l'Adi Coach sta anche studiando come creare delle alleanze tra giardinieri e voluti in modo da accumulare le forze economiche a livello di da poi da riversare nella pubblicità e quindi fare tabula rasa fare piazza pulita di clienti nella zona dove si associeranno i giardinieri e voluti che avranno capito che fare marketing è veramente l'anello mancante per il successo che li tocca che li toccherebbe e che li merita che meritano quindi come utilizzarlo si prende a giugno si inizia a metabolizzare poi si arriva quando si accorciano le giornate si intensifica lo studio e poi si iniziano a mettere in pratica tutte quelle operazioni necessarie perché il marketing è sia parte strategica che quindi deve essere elaborata a tavolino e poi deve si deve passare dalla parte strategica a quella operativa e quindi fare una serie di azioni che portano a farsi conoscere sul mercato darsi un valore rendendosi differente dagli altri e quindi poi andarsi a prendere i clienti ciao Vicente Schiano in maniera che queste persone li paghino di più rispetto al mercato dei concorrenti per chi è il corso dell'agricoch per chi è scusatemi un attimo per chi è il corso dell'agricoch buonasera a tutti grazie ciao il corso dell'agricoch ovviamente è per giardinieri ovviamente per tutti i tipi di generi e allora è un corso di marketing il marketing è sempre uguale che non è che cambia il marketing è sempre lo stesso il vantaggio che avrete voi facendo il corso con l'agricoch è quello di avere un marketing proprio tagliato sulle esigenze del giardiniere in quanto io ho fatto il giardiniere in genere ci sono altri corsi di marketing ma sono non specifici quindi significa che uno deve innanzitutto trovare il formatore bravo in grado di dargli un buon corso e oltre questo sono tutti diciamo saranno tutti ad un livello piuttosto incomprensibile per chi è all'asciutto di queste nozioni l'agricoch ha praticamente preso il marketing quello più difficile dopo averlo studiato e dopo averlo applicato soprattutto con successo in altri settori e questa è un'altra cosa importante lo ha semplificato per chi magari non ha quelle competenze non ha il tempo non è in grado di fermarsi due anni per studiare in modo da renderlo più semplice e accessibile a chi fa appunto il lavoro di giardiniere e che ovviamente la maggior parte del tempo la deve passare in giardino perché è un videocorso innanzitutto un videocorso cos'è un videocorso un videocorso è semplice le parole videocorso c'è un corso fatto video non vi arriverà in cd ma sarà messo su una piattaforma di e-learning quindi voi avrete pagando il prezzo che in questo momento non vi dico perché devo ancora finire di definirlo voi avrete l'accesso quindi tramite username e password ad un portale quindi ad una piattaforma di e-learning dove troverete il corso dell'agricoch che è diviso in tante sezioni quindi in tante lezioni per temi di interesse ok nelle prossime dirette vi parlerò appunto anche dei temi di interesse quali sono quali sono diciamo le tematiche principali del videocorso a parte il marketing quindi andrò un po' più in verticale nella spiegazione di quello che troverete a partire da giugno ed è stato assolutamente concepito sapendo che chi fa il giardiniere fondamentalmente fa il giardiniere quindi non ha molto tempo per stare davanti a una scrivania o davanti al computer quindi essendo appunto stato il giardiniere quindi conoscendo le esigenze le problematiche e i vantaggi di questo settore assolutamente il corso è stato tagliato per chi fa questo lavoro con una finalità la finalità è quella di rendere autosufficiente un giardiniere da un punto di vista del marketing quindi che cos'è per me il giardiniere un giardiniere voluto è un giardiniere che è in grado di essere anche marketer perché nella mia concezione nessuno meglio di noi può fare marketing per noi stessi perché le mie tecniche che insegnerò nel corso dell'allicoach sono assolutamente tarate sulla nostra personalità non aggiungo altro e quindi è fondamentale che la stessa persona che studia la stessa persona che va in giardino la stessa persona che ci mette la faccia conosca quelle tecniche di marketing che gli permetteranno di avere successo nel settore del giardinaggio e dall'altro lato non consiglierei mai di affidarsi agenzie di comunicazione agenzie di marketing innanzitutto perché fanno uno stile di marketing che effettivamente non è molto efficiente pensate un po' che la maggior parte delle agenzie di marketing o di comunicazione scusate soprattutto le agenzie di comunicazione e marketing in Italia trovano lavoro col passaparola ti vendono il servizio di gestione della pagina facebook ti fanno i post ti fanno delle sponsorizzate poi loro fondamentalmente trovano lavoro grazie al passaparola quindi capirete che c'è qualcosa che non torna in questo discorso tu non mi puoi vendere un servizio di gestione della pagina facebook e poi vado sulla tua pagina facebook hai 500 follower e l'ultimo post che hai fatto risale all'anno scorso quando hai augurato buon natale ai tuoi clienti perché questo purtroppo è una cosa drammatica cioè voi dovete capire che tante volte tanti di voi magari che sono anche rimasti disillusi magari qualcuno di voi ha provato a farsi fare un sito internet o aprire una pagina facebook non avete non avete trovato un cazzo di cliente in più ma perché è normale perché non sono costruite secondo delle strategie di marketing sensate sono costruite secondo strategie di marketing mediamente basate sulla creatività basate sulla brand awareness che serve la notorietà del brand che funzionano bene per brand enormi tipo coca cola ferrari cioè per brand enormi che hanno soldi infiniti e possono permettersi di sparare pubblicità a caso nel vuoto dalla mattina alla sera tanto i soldi li devono spendere assolutamente obbligatoriamente anche in pubblicità non gli interessa e quindi questo è un po' il modo di lavorare delle agenzie di comunicazione e marketing italiane che assolutamente vi sconsiglio anche perché pensate che quando voi affidate ad una di queste agenzie di comunicazione che succede ti dicono va bene io per 500 euro al mese ti curo la pagina facebook ti faccio tre post a settimana ti metto la foto del giardino che hai fatto l'anno scorso e scrivo qualcosa che succede come funziona queste agenzie ovviamente non hanno solo te giardiniere come cliente ma hanno magari 30-40 attività diverse almeno lo spero per loro ovviamente tutte trovate col passaparola e non col marketing o con le sponsorizzate e hanno 30-40 clienti diversi quindi la mattina c'è uno dei loro dipendenti mediamente potrebbe essere uno stagista che arriva in ufficio tutto assonnato si prende un caffè si stropiccia agli occhi e ha la lista e dice oggi devo fare 40 post che inizia a vedere ah ok c'ho la società di scarpe e inizia a scrivere avete visto le belle scarpine con i cuoricini che abbiamo messo in vetrina punto finito passa avanti poi c'ha un negozio di salami guardate che novità c'è il nuovo salame felino che arriva direttamente da Roma vienici a trovare questa è una delle parole più una delle frasi più utilizzate vienici a trovare o chiamaci subito che già avrebbe più senso poi c'è l'attività di giardinaggio di cui magari che cazzo ne sanno loro di come si potono che cosa ne sanno loro della psicologia del cliente che acquista un giardino ciao Sandra Amico quindi perché vi ricordo che il marketing è psicologia più matematica cioè il marketing è quell'insieme di azioni offline e online che sono in grado di andare a muovere quindi che sono in grado di andare ad attivare quelle leve psicologiche che permettono al vostro cliente al vostro potenziale cliente di percepirvi come la miglior soluzione sul mercato quindi non solo meritevole di essere chiamata e scelta da loro ma anche meritevole di essere pagati di più che il marketing va ad agire sulla psicologia del nostro potenziale cliente andando ad azionare delle rotelline che fanno scattare quel click che dicono cazzo questo qua è quello che volevo io non quell'altro scalza cane che mi ha chiesto 10 euro l'ora 8 euro l'ora e secondo me non sa fare niente io prendo tecne e prendi 25 30 35 perché con il marketing voi potete ambire andare a prendere lavori a prezzi quasi doppi rispetto a quello che facevate prima che ci sono delle tecniche delle strategie ben precise e quindi voi dovete tranquillamente aspettare a giuno e comprare il videocorso dell'agricorcio quindi stavo dicendo per chi è per manutentori quindi per realizzatori di giardini per chi fa realizzazione e manutenzione assolutamente per chi fa impianti di irrigazione per progettisti di giardini per agronomi che lavorano nel settore del verde in genere è per tutte quelle persone che hanno a che fare con materiale vegetale perché il materiale vegetale dovete capire in Italia in Italia non c'è la cultura del giardino quindi voi andate a lavorare spesso in quello che andate a soddisfare quelli che generalmente sono chiamati bisogni latenti ok o perlomeno ci sono bisogni c'è il bisogno manifesto mettiamola così mediamente l'italiano compra la villa col giardino anche l'imprenditore con i soldi compra il villone col giardino perché deve dimostrare la sua potenza non perché gli piace il giardino cioè l'imprenditore quello con i soldi quello con Rolex quello che magari sul sito mette il capannone che non spiega che cosa fa la sua azienda meglio meglio delle altre lo mette il capannone di 5000 metri quadri la sua foto con Range Rover con l'orologio tutto per dire ce l'ho duro per far capire che lui ce l'ha duro ce l'ha grande poi si compra il villone col giardinone perché ovviamente anche quello è emblema di potenza e che succedeva quando andavo a trovare queste persone qua arrivava cioè magari la moglie aveva un po' più cura più attenzione e lui e vi dico che almeno 6 su 10 mi dicevano questa cosa qui guarda te lo dico così chiaramente fosse per me io qui farei una spianata di cemento io all'inizio che ero un po' più calmo magari ero ancora un po' piccolino potevo permettermi un po' meno cose pensavo nella mia testa ma scusami che cazzo te lo sei comprato a fare che cazzo ti sei comprato a fare una villa con 5000 metri quadri di giardino se poi mi dici che devi spianare col cemento facevi prima stavi in centro magari ti prendevi un bel lattico con una terrazza ci mettevi un po' di vasi che così era già spianato col cemento avevi le mattonelle magari se volevi fare un po' il figo ci mettevi un pavimento in legno una bella vasca d'adromassaggio e hai finito non andare in campagna fuori dove puoi vivere nel fresco perché hai prati alberi boschi e foresti grande Daniele Di Nucci ciao come stai e foreste cioè perché devi 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 comprarti una villa con 5000 metri quadri di terreno per fare un giardino e mi vieni a dire fosse per me ci farei una spianata di cemento si sei un coglione oppure quando appunto capiva che magari non era il caso di fare una spianata di cemento e allora sforzandosi e quindi sto parlando ancora di bisogni manifesti quindi quando un imprenditore faccio un attimo ricapito un attimo la cosa per chi per Daniele per Gabriele magari che sono entrati dopo cioè una persona che ha soldi si compra la casa in campagna ha tanto terreno intorno e ha un bisogno proprio manifesto perché i bisogni quindi chi ha un'attività una partita IVA deve per lavorare chiede e va comunque sempre e comunque a soddisfare dei bisogni ok o a risolvere dei problemi cioè perché nasce un business perché risolvere dei problemi o soddisfare dei bisogni per questa roba qua quindi e i bisogni sono dei due tipi bisogni manifesti o bisogni latenti bisogno manifesto che esco fuori da casa ho il fango e mi serve un prato ok il bisogno latente è quello di avere un bel giardino ok dove tu puoi vivere sei mesi all'anno ecco questo passo ora qui non so chi faccia il giorniniere questo passo è fondamentale questa è una delle leve più importanti che voi potrete potreste utilizzare e ne imparerete tante altre nel corso dell'agricorce che uscirà a giugno ve lo ripeto ancora quindi il bisogno latente è quello di scusate manifesto è di coprire in qualche modo questa terra che abbiamo intorno allora l'imprenditore ignorante con rolex ce l'ho duro col capannone il ranger over che non capisce un cazzo e la sensibilità di un'oliva scolana diceva prima la spianata di cemento poi lo guardavo storto e mi diceva vabbè dai facciamo il minimo indispensabile facciamo il minimo indispensabile quindi prato siepi e diceva magari anche qualche albero ma no uno dai uno uno scusa sono cinquemila metri quadri magari qualche albero può servire ti raffresca un po' mettiamo magari un albero con caducifoglie davanti una finestra al sud in modo che l'estate non muori di caldo e l'inverno cascano le foglie e poi ti entra la luce e ti entra il sole no regole minime base di progettazione giardini di suggerimenti ma anche vitali per non stare una landa desolata no quindi cioè partiamo da avere un piazzale di cemento dove tu sognavi di stare che poi pure fare un piazzale di cemento poteva costare di più però quello ovviamente era un brutto erano bruti malefici e quindi passano a dire no ma facciamo una siepe facciamo una siepe perimetrale magari mettiamo la fotigna che non voglio parlare già di ieri già di idioti oggi mettiamo la fotina mettiamola a loro e facciamo il prato allora una classica domanda che io gli facevo caro imprenditore o anzi io li chiamo queste persone qua li chiamo imprenditini cioè sono persone imprenditori primitivi no quelli che hanno comprato il villone solo per far vedere che hanno i soldi scusami caro imprenditore se noi facciamo solo il prato e la siepe in quell'angolo a 70 metri lì quindi nello spigolo mi spieghi per quale motivo secondo te un giorno ci dovrei andare nell'angolo a 70 metri ovviamente la risposta non c'era te lo dico io tu nell'angolo a 70 metri ci andrai solamente ammesso che lo faccia tu ci andrai solamente col trattorino a tagliare l'erba ok tu non ci vai a fare nient'altro in un angolo che non ha nessun elemento da attrazione a 70 metri niente ok allora quindi questo era diciamo la soluzione al bisogno manifesto cioè coprire il terreno dalla terra a brulla e poi si passava a lavorare sul bisogno latente quindi questa è la difficoltà e mi riallaccio che poi apro parentesi su parentesi perché mi appassiono sono innamorato del mio lavoro sono innamorato dei giardini sono innamorato del marketing sono innamorato della mia fidanzata pure perché trattare il materiale vegetale in Italia non è una cosa semplice perché c'è una ignoranza pazzesca io ogni anno andavo al Chelsea Flower Show a Londra per vedere le ultime novità e torno al discorso dell'inizio della diretta che non l'ha sentita poi se la rivede cioè per portare novità in Italia riguardo a certi settori non c'è da essere dei geni assoluti basta andare all'estero a vedere quello che fanno gli altri scopiazzare contestualizzare e poi lo rifai in Italia e quindi sei un genio se lo fai in Italia perché porti una cosa che gli altri non hanno mai visto in quanto sta a mille chilometri da noi e era pazzesco perché innanzitutto lì ogni mediamente ogni giardino anche della periferia è molto curato sono tutti molto bellini hanno questi steccati in legno cioè c'è proprio un altro approccio al settore del verde ma io ve lo giuro ve lo giuro ho sentito dei bambini al Chelsea Flower Show che parlavano come dei bambini che in Italia li vedi che parlano di calcio parlavano di hortensie che dei bambini di otto anni parlavano tra di loro bambini maschi nemmeno le donne che magari possono essere più votate più portate ai fiori bambini maschi che parlavano di hortensie ok in Italia se un bambino maschio vede un'hortensia quello che può fare al massimo è prendere una palla gli tira le pallonate fino a distruggere il fiore ok quindi questa è la differenza quindi la difficoltà che ha un giardiniere è quella di far percepire al cliente qui passo alla parte del bisogno latente cioè il bisogno manifesto è fare un prato per levare il fango per non farmi vedere e il bisogno latente invece è quello che voi poi dovete risvegliare quello che potete risvegliare con azionare attivare con il marketing è quello di dire cazzo fai un bel giardino cioè hai speso un milione e mezzo di euro per farti la villa c'hai il salone che vale 150.000 euro prendine altre 70 e facciamo un lavoro dignitoso fuori cioè poi devi capire che il salone che hai dentro io te lo faccio fuori quindi se ci sono giardinieri specializzatevi un po' sugli arredi che create delle aree con degli alberi dove si può stare al fresco con delle poltroncine con illuminazione led figa cioè perché anche se parlate con quello più ottuso e gli fate vedere un po' di lavori gli fate vedere un po' di idee poi gli piace i soldi la gente li spende cioè e vi dovete levare dalla testa questo cazzo di concetto che in Italia no nessuno vuole spendere i soldi per il giardino non è vero non è vero non è proprio una cazzata cioè non è in nessun settore questa cosa esiste ci sono le persone basso spendenti e quelle le lasciate ai giard idioti ok per chi non sapesse che cosa sono i giard idioti sono i giardinieri idioti quelli che dicono a che cazzo serve la formazione e che sono quelli che mi insultano sulle sponsorizzate quotidianamente poi si scatenano sempre nel fine settimana quando si lavora meno si scatenano su sono le uni da tastiera giardinieri ok i giard idioti quindi quelli basso spendenti li lasciate a fare la guerra tra i poveri con i giard idioti ok poi ci sono persone che vogliono spendere soldi io non mi voglio vantare ma lo dico per voi non lo dico per me ho fatto un resede un resede no condominale un resede quindi col pavimentato di 70 metri quadri da 50.000 euro quindi tipo una terrazza con pavimento in legno pergotenda col motore quindi che si apriva e si chiudeva col telecomando vasche idromassaggio vasche di metallo verniciate tono a tono con la casa illuminazione led un bijou un bijou e che come ho fatto a convincere quella persona specifico quella persona non era assolutamente una persona ricca era una persona normale che che aveva una piccola azienda di pulizie ok con due dipendenti quindi una situazione media anzi di quelle che magari guadagna più il dipendente che tu ovviamente non l'ho fatto i soldi in tasca cioè perché non mi pongo il problema di pensare ma questo avrà pochi molti soldi no tu fai la proposta migliore che tu possa fare perché tu proponi la miglior soluzione quella che è bella quella che veramente ti rende la vita migliore che ti fa ringraziare Dio di avere scelto te come giardiniere quindi semplicemente il concetto era poi sto divagando sul anzi sto dicendo troppe cose se no poi nel corso che ci metto non è vero quello che vedete voi sono la punta dell'iceberg immaginate cosa ci sarà sott'acqua cioè ci sarà della roba che voi rimarrete senza fiato senza fiato direte wow quello che facevo capire è che se hai uno spazio anche piccolo fuori cioè facciamo un salottino all'aria aperta dove tu puoi vivere il giardino come se fosse il salotto di casa tua ok quindi magari eravamo in casa poi un po' d'occhio ce l'hai se sai un po' di design insomma ti rendi un po' conto dell'idea dei mobili se vedi un dimanno da 7000 euro una libreria da 10 un parquet in rovere che ne costa 80 al metro quadro tu dici scusami cioè non è che gli fai conti in tasca ma se tu hai speso una bella cifra per il dentro che per stare con la tua famiglia con i tuoi amici con la tua fidanzata no tu pensa se che questa roba qua la facciamo fuori cioè se tu la casa è di 120 metri quadri fuori ce n'hai 70 anzi erano 50 quelli della tipa se la tua casa è 120 fuori ce n'hai 50 ti facciamo il fuori bellissimo come il dentro così tu non hai una casa da 120 metri quadri e il fuori dove ci vai e ti porti la seglolina da sopra di plastica quella che ti sudano le cosce ok no ci mettiamo dei divani ci mettiamo dei tavolini ci mettiamo una luce figa ci mettiamo il barbecue in muratura mettiamo delle piante con colori tenui sto dando anche troppi consigli di garden design oggi nelle aree dove ti rilassi si usano piante con colori tenui si usa il bianco si usa l'azzurro si usa il violetto non si usano i colori accesi non si usa il rosso cioè non puoi piazzare una siepe di fotinia dove mangi che quando c'è la foglia rossa ti si blocca lo stomaco cioè questa è scientifica no? cioè i colori provocano sul nostro stato d'animo i colori provocano sul nostro stato d'animo delle reazioni inconsce cioè il rosso aumenta il nostro battito cardiaco ok? quindi è normale che dove si mangia dove si vuole stare rilassati non si mette il rosso si mettono colori tenui poi ovviamente ovviamente non è che tu metti il rosso e ci porti il cliente e dopo 5 minuti gli viene l'infarto o si mette lì a contare i battiti no? questo non succede ma assolutamente c'è un disagio inconscio cioè fare un bel giardino è anche creare un equilibrio naturale e secondo me l'espressione massima di fare un bel giardino è quella di fare un giardino che sembra che ci sia sempre stato in quel luogo questa è l'espressione massima di fare un bel giardino non bello in assoluto ok? perché ho visto tanti giardini io stesso ho fatto giardini bellissimi in assoluto ma all'inizio quando ero già ad alto livello facevo bei giardini però non erano perfetti perché non davano quella sensazione di tranquillità non erano ben calibrati in alcuni aspetti nella simmetria nell'impatto emotivo come quelli che ho fatto dopo che magari erano all'apparenza meno belli ma tu entravi ti sedevi e ti sentivi da Dio cioè pensate che ho fatto forse il mio miglior giardino l'ho fatto a delle persone che non riuscivano ad avere figli dopo che gli ho fatto il giardino io hanno avuto due figli cioè ditemi se questo non è un risultato strepitoso questa è una leva di marketing cioè hai non riesci a fare figli fai il giardino con azienda tizio e caio ti faccio fare i figli cioè ve lo giuro anche questa non è una cazzata solo storie vere dall'agricolt solo storie vere quindi ho divagato già troppo ora dovete sapere che la mia fidanzata che si chiama Mattia che però è una donna non è un uomo non che abbia nulla in contrario contro rapporti di diverso tipo dall'etero sessuale però si chiama Mattia ed è una bellissima donna questa sera mi ha preparato la pizza con il metodo bonji che è quello famoso un altro furbacchione del marketing andatevi a vedere bonji pizzaiolo che furbacchione che è e quindi avevamo tarato la prima sfornata per le 8 e 15 quindi non vorrei farla raffreddare quindi anche questa sera oggi più che mai innanzitutto preparatevi ad acquistare il corso dell'agricolt a giugno che sarà in tre versioni oggi più che mai anche questa sera prima della pizza bonji io brindo alla tua evoluzione ciao a tutti giardinieri anche non giardinieri so chi c'è in linea non lo riuscirò mai a capire non ce la farò mai e ci vediamo magari domani sera con la solita chiacchierata serale poi vediamo ciao ciao Grazie a tutti.